Il jazz torna a invadere il comune partenopeo di Pomigliano d'Arco, stavolta arrivando in una location inattesa e imprevedibile, i binari della stazione della Circonvesuviana. È un setting assolutamente inusuale, quello degli appuntamenti del Pomigliano Jazz Festival al 2024 di inizio settembre, eppure il suo carattere genuinamente urbano si lega armoniosamente con lo spirito jazzistico più sincero. Così su questo palco di eccezione si sono susseguite le performance del trio Luigi di Nunzio, dell'Imperfect Trio guidato da Roberto Gatto e del duo londinese di Theon Cross. Proprio quest'ultimo è rimasto folgorato dalla possibilità di esibirsi in un contesto così peculiare. È davvero bello, è un primo per me, non ho mai giocato in una stazione di treno. È la prima volta che suono in una stazione ferroviaria, penso sia un'idea davvero geniale, ed è bello vedere la gente venire in un posto così e godersi la musica. Salendo qui poi ho visto le locandine degli anni scorsi e ho letto i nomi di artisti di altissimo livello. Sono onorato di essere anch'io qui, spero di poter tornare presto. Altrettanto sorpreso per la location di questa esibizione è felice di essere tornato al Pomigliano Jazz il romano Roberto Gatto. È un one shot perché qui riaprono fra qualche giorno e hanno chiuso pochi giorni fa, insomma quindi è una cosa unica che rimarrà un evento abbastanza singolare. Per quanto mi riguarda la nostra presenza a Pomigliano è un grande piacere perché era un po' di anni che non venivo, ho suonato in edizioni passate però era un po' di anni che non venivo e quindi è una bella atmosfera di fine estate che comunque ci regala ancora questo tempo per poter fare queste cose all'aperto, una bellissima stagione.